Atleta e presidente qui insieme, Davide Pontarini presidente del team Veneto con il neo qualificato. Una gioia indescrivibile quello che ha fatto questo ragazzo oggi, mi ha reso come tutti gli altri sicuramente, ma sappiamo benissimo io e lui quanti sacrifici ha fatto per arrivare fino a qua e quanto noi abbiamo creduto in lui. L'ho visto crescere da piccolino e sono veramente strafelice di questo risultato. La famiglia del team Veneto si riconferma quindi? La famiglia del team Veneto si riconferma e sicuramente anche la tradizione di Centro Stile Libro del team Veneto si riconferma. Bravo Paolo! Grazie! Grazie!